Carissimo Total Fred, dedico questo video a te perché rappresenti una gran fetta dei tifosi milanisti incapaci di intendere e volere, incompetenti fino al midollo, dimostrato per tutta la stagione e perciò parlo a te per parlare a una gran fetta dei tifosi. Allora, partiamo subito dagli inizi. Il Milan come Rosa, è inutile che tu sogni, non è da Champions, assolutamente no. Oltretutto il Milan per gran tratti della stagione ha avuto parecchi infortunati. Ovviamente l'incompetente dirà che è colpa del mister, assolutamente no. Allora, ti ricordo che c'è stato un periodo dove ci è mancata l'intera difesa, Romagnoli e Musacchio. Abbiamo giocato con Zapata, Abate, inventato, difensore o difensore inventato. Poi Caldara tutta la stagione. Buona avventura tutta la stagione. Buona avventura, molto importante, perché uno dei pochi giocatori, forse l'unico che sa fare da tramite tra il centrocampo e l'attacco. Ti ricordo che abbiamo avuto una stagione travagliata perché prima è arrivato Iguain, poi a metà stagione se ne va, poi arrivano Pionte che è Paquetà, quindi ci vuole sempre tempo di amalgamare questi giocatori qua. E oltretutto Paquetà, anche esso, è mancato parecchie partite. Quindi capisci? Caldara tutta la stagione. Buona avventura tutta la stagione. Paquetà è mancato diverse partite. Biglia pure, che alla fine non è un gran che. Poi, che giocatori? Secondo te Biglia è un giocatore da calcio? Biglia, Chessi, Rodriguez, Cialanolu. Ancora voi siete convinti che lui giochi fuori ruolo? Questo non è da me, non l'avete capito sì o no? Poi, la società, dove è stata presente? Dove hai mai criticato Leonardo, lo stesso Maldini? Io l'ho visti sempre lì da parte e gattuso a fare l'allenatore, il padre, il dirigente, assumendosi tutte le colpe, perché in realtà le colpe sono anche dei giocatori, che non abbiamo questi grandi giocatori, sia tecnicamente sia mentalmente, cosa più importante, e ci ha portati, con tutte queste assenze, con tutte queste difficoltà, ci ha portati a lottare fino a dieci minuti dalla fine per la Champions. Anzi, fino alla fine, però a dieci minuti dalla fine eravamo in Champions. E questo ora, dici sì, ora ovviamente mi diranno, sì ma eravamo. Sì, ma già questo è tanto, perché come ad inizio anno io vi dissi, noi lotteremo per il quarto posto, ho avuto ragione, abbiamo lottato per il quarto posto, ma questo già è quello, il massimo che si può fare con questa squadra. Ora direte, ignoranti, sì ma l'Atalanta allora, sì ma l'Atalanta questi sono i miracoli nel calcio, l'Atalanta però non ha la pressione, nessuno ha parlato che l'Atalanta era qualificata per l'Europa League e non è nemmeno entrata alla fase dei gironi, è uscita fuori col Copenaghen. Ha potuto giocare un'intera stagione tranquilli, senza pressione, perché è sempre l'Atalanta. Il Milan invece c'è questa pressione, perché si pensa al Milan, al grande Milan, ma questo grande Milan non esiste più. La rosa attuale non è quella del grande Milan. Non abbiamo questi campioni in rosa. Hai capito? Quindi, Gattuso ha fatto bene ragazzi, e voi vi dovete sciacquare, total freddo e stai zitto quando parli di Gattuso. Ma non lo dico ciò perché io lo amo come persona, come leggenda del Milan, ma anche come allenatore. È stato l'unico degno di Milan. Uno dei pochi. Ma vi rendete conto ragazzi? Ma vi rendete conto? Oltretutto giocare il giovedì è stato sempre un disturbo in campionato. Poi tutti questi infortuni, difesa assente, senza buona avventura, importante giocatore, Pachetà che è mancato diverse partite, e poi questi giocatori sono entrati dopo, dopo la sosta. Ma ragionate veramente? E anche in partenza la rosa era lì, per il quarto o quinto posto. L'anno scorso Montella che ci aveva fatto quasi retrocedere, è arrivato Gattuso, ha portato una media da Champions, con una non grande squadra. È uguale che ci sono state quelle partite con le difficoltà, col Benevento, è vero. Però guarda pure col Benevento, quel 2-2 succede una su mille volte, giusto giusto contro di noi. Ma queste sono colpe di Gattuso? Guardatevi le medie di Gattuso, con la rosa che abbiamo a disposizione. Voi siete incompetenti, incompetenti fino al midollo, Totalfred, Giacomo Bellanovali o come si chiama, ma incompetenti totali, ma vi dovete vergognare, non capito un cazzo di calcio. Non capito un cazzo di calcio. Voi siete anche quelli, i sognatori, come nel periodo dove il Milan stava quasi per acciuffare il Napoli. Tanti credevano, oh il Milan ora terzo sicuro, anzi sicuramente potrà arrivare anche secondo. Lì io ero quello che dicevo ancora. Alti, tranquilli, che noi dobbiamo pensare al quarto posto, perché questo è il massimo che possiamo raggiungere. Ma il quarto posto, nonostante io lo sognavo, era un sogno. Ci credevo, perché da tifoso ci devo credere, ma quello è il massimo. siete incompetenti, e lo avete dimostrato. E io vi ho dimostrato per l'intera stagione che ne capisco di calcio, perché questi sono i fatti. Quindi Muti, Atalanta, Atalanta ha giocato senza pressioni, e poi è una stagione a parte, è un miracolo. Ok? Il Milan ha tutta la pressione addosso. Società inesistente. Leonardo che ha fatto? Leonardo cosa ha fatto? Anzi, in quel periodo dove abbiamo fatto dei risultati negativi, lì all'interno, Leonardo non si è comportato bene. Non c'è stato mai l'appoggio verso Gattuso. Quindi, zitti. Gattuso ha fatto bene. Ha fatto bene Gattuso. Incompetenti.